Ok, mister Enrico Sacchi a presentare il suo libro, la Coppa degli Immortali, a presentare un Milan, squadra più grande di tutti i tempi, in un paese, Caldarola, che ha bisogno di reagire dopo il terremoto e lei ha fatto tanti accostamenti. Qui bisogna ricostruire, anche il Milan bisognava ricostruirlo, forse l'era più facile, qui è un po' più difficile, quindi sarete anche più bravi di quanto sono stato io. Perché ha voluto sempre giocatori intelligenti nelle sue squadre e nei suoi progetti? Diceva Michelangelo che i quadri si dipingono con la mente, la mano è un mezzo, il calcio si gioca con la mente, il piede è un mezzo. Un'ultimissima battuta, ritiene che oggi il calcio sia rovinato, soprattutto a livello di l'entantistico dai tanti soldi che girano? Sono sempre girati purtroppo. Grazie. Grazie.